Una passione molto importante, soprattutto per divertire e per lottare con tutti. È la mia passione. Calcio, champagne e dream team sono i nomi di due formazioni speciali che fanno parte della società Olmo Ponte Santa Firmina. A guidarle l'esperto allenatore Gianluca Livi e a trascinarle l'entusiasmo di Ciccio Graziani. Anche di destra lì. L'ex bomber e campione del mondo è infatti il volto principale del progetto. Nasce all'interno di una società sportiva per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di entrare all'interno delle società sportive del territorio e giocare insieme ai loro compagni di classe, ai loro amici senza disabilità che tutti i giorni partecipano alle attività delle società sportive, nelle scuole di calcio, nel settore giovanili. Dato che esistono molte squadre di calcio per i ragazzi e per gli adolescenti ma non esiste nessuna opportunità nel nostro territorio per le persone con disabilità abbiamo deciso di aprire anche a loro la porta di questi impianti sportivi. Mettersi a disposizione di persone che nella vita non sono state così fortunate è una cosa meravigliosa e quindi questi ragazzi me li tengo stretti perché sono una parte del mio cuore importantissima. Squadre che hanno trovato uno spazio all'interno della Rezion Cup, una vera e propria festa del calcio giovanile. Per la prima volta in città si sono svolte le finali Special Olympics Italia Area Centro Special Football 2024, un torneo di calcio inclusivo con la partecipazione di 5 squadre e 50 atleti. È sempre un'esperienza molto emozionante perché poi ti ritrovi a giocare delle partite vere e si vedono proprio delle emozioni in campo perché in allenamento sono tutti ad alto livello poi dopo vengono qua a giocare e un po' di emozione li frena ma è il bello delle partite insomma. Almeno possiamo dimostrare a tutta Lezzo che noi siamo bravi a giocare ma anche per divertirsi contro le altre squadre che vengono qua a giocare con noi. E poi ci si diverte, si sta in compagnia, giusto Nicolás? Sì.